Ogni tanto nella vita bisogna prendersi dei rischi, dire quello che si pensa, mettersi in gioco rischiando anche di dire delle boiate. Non è questo il caso, ciao buongiorno a tutti, io sono Otis e oggi parleremo di Emanuele Latte-Late che su questo sito, su questo canale YouTube ma anche su Atalantino ha avuto parecchio spazio nell'ultimo mese con molti che storcevano il naso e dopo le prestazioni di Clusone e Zingonia, insomma, tanti giornali si sono accorti di lui. Prima però come sempre due informazioni, la prima ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento e la seconda è che ho piacere di annunciare una nuova collaborazione con Zen Italian Gin che ha fatto un gin ufficiale brandizzato Atalanta, ovviamente solo per maggiorenni, se siete interessati lo potete comprare sul loro store e con Otis10 avrete uno sconto del 10%. Detto ciò, torniamo a noi. Questo non vuole essere un video in cui mi tolgo un sassolino dalle scarpe ma io credo che sia anche giusto ribadire quando ci siamo esposti su questa cosa e nessuno era d'accordo. E se è giusto ricordarlo per far capire che a volte comunque bisogna anche andare un po' di pancia, poi si può sbagliare o meno, però non bisogna sempre andare a botta sicura perché altrimenti non avrebbe senso neanche trovarci qua a parlare. Io e Paglia in quella famosa live parlavamo di quel giocatore, dicevamo tante cose perché aveva fatto bene in Svizzera, perché l'avevamo guardato, perché l'avevamo osservato. Molti di voi storcevano il naso, giustamente perché non avete tutto il tempo libero che abbiamo io e Paglia per vederlo. Noi abbiamo accettato la cosa perché ci sta e per oggi, 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 è anche simpatico ovviamente senza presunzione dimostrare che magari non abbiamo ragione del tutto, però, 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 qualche dubbio. Anche l'Atalanta ce l'ha, al di là, ovviamente, degli scherzi e della parte un po' più divertente. Parliamo di questo ragazzo che, come dicevo, fra Clusione e Rovetta ha dimostrato parecchio e si sta comunque ritagliando articoli di giornali importanti. Io credo che la questione dell'Atalanta sia molto importante, molto strategica per due temi. Il primo perché il ragazzo comunque sta dimostrando di avere fame, di avere voglia, di crederci e di voler provare a giocarsi un posto. Io continuo a pensare che lui non può essere l'attaccante titolare e nemmeno bisogna riporre troppe speranze. Però, in una squadra che andrà a giocare il campionato, la Coppa Italia, l'Europa League, in mezzo ci sarà la Coppa d'Africa, dove sappiamo già che Touré e Lukman parteciperanno. Insomma, secondo me, un ragazzo del genere, con quello che sta dimostrando, fa comodo. Poi potrà rivelarsi una grande rivelazione, oppure potrà essere un buon rimpiazzo, quello starà a lui vederlo. Però io continuo a pensare che un giocatore del genere, ha un giocatore del genere oggi un'occasione, visto proprio il traffico e visto la necessità di avere forze fresche, gliela si può dare. E il classico giocatore, come dissi allora e io lo ripeto, che te lo va a prendere un pantaleo corvino di turno, tutti se lo ignorano, al fantacalcio piglia due e poi magari i suoi sei, sette, otto gol li fa. Io sono ciecamente convinto che anche tenendolo in panchina, ammetti che nella finestra della Coppa d'Africa ci capita un calendario tutto sommato abbordabile. Lui può davvero aiutare e può davvero portare a casa anche delle reti importanti. In secondo luogo, questo giocatore comunque, e lo potete vedere tranquillamente da voi, guardando le live dell'Atalante, guardando l'entusiasmo dei tifosi, un po' perché tanti, per esempio della mia generazione, si ricordano del suo esordio incredibile, poi dei problemi fisici, però ci si ricorda che sul ragazzo c'erano tante aspettative. Aspettative che devono essere ponderate per quello che si richiede, cioè non stiamo parlando del nuovo Haaland. Si è chiaro che poi con l'eccitazione qua ogni tanto si prendono anche degli abbagli. Però è un ragazzo che rappresenta l'Atalanta, rappresenta il bivaglio dell'Atalanta, la storia dell'Atalanta, che ha detto chiaramente che gli piacerebbe provare a giocarsi le sue carte, e secondo me quest'occasione l'Atalanta gliela deve dare. E io penso che se oggi si trova ancora a Bergamo, si trova ancora lì, è perché l'Atalanta ci sta seriamente pensando. D'altronde, fra tutti gli esuberi che l'Atalanta dispone, e sono parecchi, volendo ben vedere l'Atalanta è uno dei più facili da piazzare, ha avuto una buonissima stagione in Svizzera, con 15 reti, anche di più forse. Quindi non è un problema trovargli una collocazione, eviterei obiettivamente ragionamenti sull'Under 23, perché stiamo parlando di un ragazzo che può giocare tranquillamente in un campionato di massima categoria, non dico nelle squadre di Champions, però in una squadra di mezza classifica ci può stare tranquillamente, senza grandi problemi, quindi dubito posso accettare la C. però, ripeto, secondo me nella sua storia, nel suo percorso, mi piacerebbe vederlo coronare con una possibilità, che poi lui si deve guadagnare, se la deve guadagnare sul campo, qua nessuno parte prevenuto, né in positivo né in negativo, bisogna dimostrare. Però già da questo ritiro, secondo me il ragazzo ha dimostrato di tenerci, di crederci, di voler lottare per rincorrere quello che, alla fine per lui, è stato un sogno di poche partite, poi è iniziato tutto un calvario di infortuni, da cui ora sembra essersi ripreso. Ripeto per l'ennesima volta, perché credo che sarà il più grande fraintendimento di questo video, non sto dicendo che se parte Oilund, chi se ne frega, ci abbiamo latte latte. Assolutamente, sto dicendo che in una stagione molto complicata come questa, si può anche pensare di tenere questo giocatore, che comunque qualcosa ha già dimostrato, e sfruttarlo nei momenti più complicati. Ecco, mettiamola così. Poi, se si prende la scena, tanto meglio. Se non si prende la scena, obiettivamente, piuttosto che non averne, è meglio averne uno in più disposto a fare panchina, almeno questo è il mio punto di vista. Stiamo parlando di un ragazzo che può giocare tranquillamente come punta, può giocare anche come attaccante esterno, che vede comunque parecchio la porta, e che ha anche un carattere abbastanza educato, non è una persona dalla personalità trabordante, quindi anche all'interno del gruppo ci può assolutamente stare. Chiaramente la valutazione ultima spetta al mister, questo è un video proprio di chiacchiericcio da bar, ma siccome quando ne abbiamo parlato, e lo sto dicendo con la massima simpatia, non è che vi punto il dito, sembravamo dei visionari, e oggi invece quell'idea un po' così effettivamente, l'Ele Soltaol, mi sembrava giusto dedicarci un altro pezzettino, anche perché oggi ne parla l'Eco, l'altro ieri ne ha parlati altri siti, insomma si sta muovendo qualcosa attorno al ragazzo, e quindi io ci tengo a ribadire per l'ennesima volta, che anche da parte mia, anche per quanto mi riguarda, al ragazzo un'occasione gli lascio vuol dare, poi non so se avete visto il sostegno che c'è, il ragazzo su internet, durante le live chat su YouTube, erano più le persone che dicevano, forza la telat che oilund, ma quello poi sono un po' i paradossi del web, non voglio assolutamente ingigattire la cosa, senza pomparlo, senza mettergli ansi e aspettative particolari, vediamo come si comporta, ma io credo che potremmo essere davanti a una di quelle belle storie di rivincita, di rivalsa, di un ragazzo che ha assaporato per un breve momento, una certa gloria, almeno all'interno dei tifosi dell'Atalanta, ha avuto anni bui, e ora si sta riconquistando pian piano, il posto che probabilmente ha sempre meritato, è un bel racconto, che mi piace condividere con voi, e che vorrei onestamente continuasse, perché il calcio oggi ha bisogno di queste storie, ha bisogno di queste situazioni, perché sono un po' da stimolo per tutti, e perché vanno anche a ridare un tocco di romanticismo, un tocco di passione, a uno sport che ultimamente è praticamente un mix fra contabilità e promozione e marketing. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate, in verità la vostra opinione è già abbondantemente la so, perché sotto quasi tutti i video ultimamente si parla di lui, però ci tengo ad avere un po' il vostro parere, la vostra idea, fatemelo sapere nei commenti, vi ringrazio come sempre per il sostegno, per l'appoggio che date anche al canale, che oramai ha superato abbondantemente i 6.000, ma stiamo viaggiando veramente forte, come al solito vi ringrazio di tutto, e ci vediamo nel prossimo video, ciao!